Grazie Presidente. Signora Ministra, a me tocca spiegarle perché i deputati di Facciamo Eco sono costretti a votare contro questa riforma. Noi abbiamo chiesto che gli ecoreati fossero compresi tra quei reati per cui non è prevista l'improcedibilità. Poi abbiamo provato una mediazione e abbiamo chiesto che almeno il disastro ambientale rientrasse in questi provvedimenti. Poi abbiamo presentato un ordine del giorno per impegnare il governo ad affrontare questa situazione. Su queste nostre tre proposte c'è stato detto di no. Ecco, la legge numero 98 a prima fermare l'ACI del 2015, Ministra, è frutto di una mobilitazione popolare durata vent'anni. Frutto di quei territori che nel nostro Paese hanno conosciuto l'inquinamento ambientale, la messa a rischio della salute dei cittadini e delle cittadine. Siamo arrivati dopo vent'anni di mobilitazione a una legge giusta che stabiliva un principio sacro santo che chi inquina in questo Paese deve pagare. Non solo perché inquina nel presente, ma perché mette a rischio il futuro delle prossime generazioni. Quelle prossime generazioni in nome dei quali noi stiamo facendo la cosiddetta transizione ecologica. Questa è una legge fortemente voluta dal popolo inquinato e noi riteniamo che la sua riforma tagli le gambe a questa legge. Ed è una cosa che non possiamo permettere. Guardi, la grande amarezza è che oggi chi non ha voluto quella legge nel 2015, nel 2021, sta vincendo. Io chiedo al Governo di riconsiderare questa vostra decisione nei prossimi provvedimenti. Questo chiedevamo nel nostro ordine del giorno, ci è stato negato anche questo. Io in questi giorni stiamo vedendo un pezzo importante del nostro Paese che va a fuoco. Noi rischiamo che con un procedimento del genere vada a fuoco soprattutto la giustizia, vada in fumo la giustizia. E questo non possiamo consentirlo. Non possiamo consentire che quei territori che conoscono l'inquinamento vengano indeboliti, mettendo a rischio una legge fortemente voluta anche dalla magistratura, che combatteva i reati ambientali con armi spuntate. Ora quelle armi sono di nuovo spuntate. Ministra, il mio è un appello, oltre naturalmente alla dichiarazione di un voto contrario, ma un appello. Veramente il disastro ambientale è un delitto odioso, è un delitto contro l'umanità e va assolutamente ricompreso tra quei delitti per cui non è prevista l'improcedibilità. Grazie.